Tanti sono i motivi che possono portare la bella Italia d'amico a seguire questi Eurotei 2016. Tuttavia, accanto alle regioni lavorative c'è il legale, il gran legame che ovviamente c'è tra lei e il portiere della nostra nazionale, Gigi Buffon. Tuttavia in un video del giornalista di Sky Sports, Stefano De Grandis, si vede la bella conduttrice previsiva, soffrire per le sorti degli azzurri e del gran portiere della nazionale, Gigi Buffon, mentre guarda la partita contro il Bergio di qualche giorno fa. Il collega guardando la tesa ne avrebbe chiesto, ma tu soffri da conduttrice, da difosa o da WEG? WEG significa Wives and Girlfans ed è l'acronimo utilizzato per indicare le moglie e le compagne degli atleti. L'amico a quel punto avrebbe risposto scherzando, ti do una testata se non ti togli. Ovviamente il video è finito su Facebook, non è un video che è passato inosservato, anzi è diventato un video virale nel web. Grazie per l'ascolto, grazie per la visione, il video termina qua. Iscrivetevi se volete, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate e un caro saluto a voi tutti. Grazie.